Un cordiale saluto a tutti gli amici in linea e benvenuti in questo video di promozione dei segnali di trading finanziario in abbonamento di The Trading Online, più che una promozione è una constatazione il fatto che tutti i segnali vengono sempre resi pubblici una volta conclusi perché ovviamente c'è un servizio di segnali di trading in abbonamento e quindi non possono essere resi pubblici prima che vengano conclusi, ma ovviamente vengono resi pubblici, quindi una persona che vuole abbonarsi al mio servizio, servizio mio e delle persone che comunque collaborano nell'aiutarmi con diverse mansioni, ha la possibilità in tutto e per tutto di valutare al meglio il servizio. Questo è il mese di febbraio, deve essere ancora aggiornato, verrà aggiornato domani, ma comunque anche il mese di febbraio si è concluso in maniera positiva. Abbiamo il mese di gennaio che andiamo a mettere in grafica, gennaio 2018 che è stato questo, come vedete avete tutti i trade a vostra disposizione, col periodo peggiore, non abbiamo problemi a segnalarlo e periodi migliori come questo dal 12 al 23 che è stato un ottimo periodo, tutto con la massima semplicità, vi viene inviata un'email con tutte le indicazioni da seguire la giornata seguente, il tutto a livello operativo richiede esclusivamente 10 minuti al giorno con un inserimento al massimo di un trade su un cambio. Nulla di più, nulla di meno, massima semplicità, massima tranquillità, poco stress, avrete un take profit, uno stop loss e l'ordine di entrata ben chiari e ben precisi, quindi il tutto non lascia scampo a dubbi e il tutto poi viene reso pubblico, rendendolo pubblico ovviamente nel momento in cui avete i segnali li potete anche confrontare, quindi è un servizio assolutamente molto importante per l'abbonato stesso che a livello pubblico, quindi nella massima serietà, ha la possibilità di confrontare se effettivamente i segnali sono stati quelli passati, quelli girati via email e che non ci siano trucchi, perché ovviamente uno può anche dire ok però questi sono segnali che non mi lasciano, non mi danno fiducia, rendendoli pubblici ovviamente chiunque si senta chiamato in causa e chiunque ipoteticamente non risponda, non vede nel vero i segnali pubblicati, ovviamente manderà un commento, farà un video, farà un post di segnalazione eccetera eccetera eccetera, quindi il tutto viene reso pubblico per gli abbonati, quindi serietà e responsabilità nei confronti degli abbonati e serietà e responsabilità nei confronti delle persone che si vogliono abbonare al mio servizio, al servizio dei segnali di trading e in abbonamento di The Trading Online, un servizio che ha sviluppato l'86% di ritorno netto sul capitale iniziale nel 2016, il 2016 è stato un anno veramente grandioso, nessun mese si è chiuso in maniera negativa come vedete dalla grafica, tutti i 12 mesi sono stati operativi e tutti i 12 mesi si sono chiusi bene, è stato un anno veramente molto molto bello, molto positivo e come vedete ci sono stati dei mesi in cui ci siamo difesi, settembre-ottobre come maggio-giugno, quindi come dice la vecchia regola dove non puoi vincere cerca di non perdere e lì abbiamo guadagnato una percentuale risicata ma abbiamo portato a casa il mese. Nel 2016 avevamo il rischio sia del 2% che dell'1% così come è caduto nel 2017, poi le percentuali le abbiamo pubblicate col rischio del 2% ma poco cambia a seconda del rischio adottato si ha un guadagno maggiore ma nel tempo stesso anche un drawdown maggiore. Abbiamo unificato tutto nel 2018, sarà sempre ed esclusivamente un rischio del 2%, con il rischio del 2% nel 2016 come anticipato prima è stato generato un guadagno dell'86% di ritorno netto sul capitale iniziale, ciò significa che se a gennaio 2016 avevate in conto 10.000 euro l'anno lo concludavate con 18.600 euro e tanti abbonati l'anno concluso con questo saldo. Nel 2017 invece un anno come sto scorrendo adesso, un anno meno importante dal punto di vista delle percentuali ma comunque è stato un anno interessante, il 48% di ritorno netto sul capitale iniziale, se iniziavate l'anno con 10.000 euro a fine 2017 vi ritrovate in conto 14.800 euro. Si pubblica tutto come detto nel rispetto verso l'abbonato e verso coloro i quali eventualmente vogliono abbonarsi al servizio perché hanno modo e maniera di vedere giorno per giorno, trade per trade, tutto quello che è successo. Guardate ad esempio a dicembre 5 trade consecutivi negativi e lo pubblichiamo, non abbiamo nessun tipo di problema a pubblicarlo, fa parte del gioco, ciò nonostante poi anche il mese di dicembre è andato in archivio positivamente, però è importante far vedere tutto, pubblicare tutto, anche perché chi ha un buon servizio di segnali di trading non ha alcun interesse a non pubblicare i propri risultati, anzi detradingonline.it fa quasi esclusivamente questo, fa vedere i propri risultati pubblicamente perché poi alla fine la persona che si interessa di trading vuole vedere la sostanza, vuole vedere i risultati conseguiti nel corso del tempo. C'è anche un'offerta, i primi 10 giorni di segnali di trading finanziario sono a 10 euro, quindi avrete modo e maniera con un piccolo costo di valutare anche se a livello pratico è un servizio che fa o non fa al caso vostro, detradingonline.gmail.com se avete interesse in tal senso o magari qualche domanda, qualche informazione aggiuntiva, insomma via email rispondiamo nel giro di breve tempo a tutti e ripeto vedendo detradingonline.it o il canale di youtube correlato vedete tutto quello che è successo nei segnali di trading in abbonamento. Di più non possiamo fare, più che pubblicare quello che facciamo, non possiamo fare quello che vogliamo, ovviamente mi riferisco a me e alle persone che mi aiutano con le varie mansioni tra blog e canali di youtube, più di questo non possiamo fare e quindi la valutazione la dovete fare voi, scorrete tutti i mesi, tutte le settimane, tutti gli anni presenti nel blog e valutate se a livello di risultati è un servizio che possa o non possa fare al caso vostro e se avete voglia di cimentarvi in questo servizio ad un costo veramente irrisorio, 10 euro quindi un euro al giorno per i primi 10 giorni potete valutare il servizio di detradingonline.it. Il minimo che si può fare, il minimo che un servizio di segnali di trading in abbonamento possa fare è quello di pubblicare i propri risultati e nel bene e nel male, noi tutto questo ce l'abbiamo, è cresciuto molto il canale di youtube, abbiamo in serbo anche delle novità a livello didattico gratuito quindi continuate a seguire il canale sia per quanto riguarda il trading finanziario che il betting exchange, risultati reali come sempre sono il massimo che possiamo fare ma soprattutto sono gran parte di quello che facciamo, le chiacchiere non ci interessano, il marketing non ci interessa, ci interessa far vedere quello che riusciamo a conseguire, quello che riusciamo a fare anche perché quando ho iniziato a fare trading non mi interessava tutta la chiacchera che si faceva dietro il trading, mi interessava questo, i risultati, mi piaceva vedere i risultati reali, i risultati pubblicati, i segnali di trading pubblicati, i resi pubblici, questo mi interessava, questo mi piaceva e quindi ho fatto un blog a immagine e somiglianza di quello che piace a me, ossia di vedere i risultati reali. Poi sono io che decido se è un buon servizio, se non è un buon servizio, se mi piace, se non mi piace ma lo posso decidere in base a quello che vedo, se non vedo nulla da una persona che mi dice che mi dà i segnali di trading di laboramento, come posso io giudicare quel servizio, quella persona, quei risultati, quelle performance, se di fatto non so che performance ha avuto? E poi potete, secondo me, la cosa principale e più importante, quella di valutare il drawdown, perché ovviamente i periodi peggiori sono quelli di maggior sofferenza, potete valutare nel corso del tempo voi stessi quali sono stati i periodi peggiori e quindi se vi ritrovate con 3-4 trade consecutivi negativi, tornate indietro nel tempo e vedete quello che è successo in quel determinato periodo, ad esempio una curiosità prima di salutarvi, sia tra maggio e giugno del 2016, come vedete 2% di profitto, quindi un profitto piuttosto bassino, non buttiamo via niente, ci siamo difesi, mesi comunque portati a casa con un risultato positivo, va benissimo, però sono stati due mesi un attimino di sofferenza, se torniamo indietro andiamo a vedere il 2017, maggio e giugno sono stati gli unici due mesi chiusi in maniera negativa, come vedete, anche qui ovviamente non è una percentuale eclatante, non parliamo dell'8% di rosso o quant'altro, però è comunque un mese chiuso in maniera negativa, quindi maggio e giugno del 2016 e maggio e giugno del 2017 per certi versi si associano, sono simili, tutti e due sono stati due mesi un po' in sofferenza e magari se una persona si ritrovava al 24 maggio e si era abbonata al 15, andava un po' in sofferenza perché diceva 1, 2, 3, 4 trade negativi, due trade positivi e cosa faceva? Poteva tranquillamente andarsi a vedere nel corso del tempo i periodi simili a queste e magari vedere il periodo corrispondente di maggio 2016, che non è stato un periodo esaltante e poi c'è stato un buon recupero nei mesi a seguire. Quindi come vedete con la possibilità di vedere sempre i risultati, i segnali di trading pubblici ogni volta che volete, ogni volta che potete farlo, vi semplifica molto la vita, vi facilita la vita e vi stressa molto di meno perché avete un riscontro pratico. Questo è quello che fa thetradingonline.it, lo dico bene, thetradingonline.it. A me non resta che salutarvi, se avete richieste, domande o quant'altro, thetradingonline.gmail.com. Io vi saluto e vi ringrazio e vi do appuntamento ovviamente al prossimo video.